È una campagna nazionale, come dicevi tu, si svolge su 400 piazze italiane contemporaneamente. Ci prefiggiamo di incontrare la popolazione, di parlare con le persone e di spiegare loro che le buone pratiche di protezione civile sono utili per limitare i danni a se stessi, agli altri e alle persone e alle cose, naturalmente gli animali. Per cui è buona norma essere sempre aggiornati e informati su cosa fare e cosa non fare. Un'altra cosa importante su cui spieghiamo è che i comuni hanno dei piani di protezione civile che spesso i cittadini non li conoscono. È bene appunto che dare queste informazioni anche sul territorio dove si vive e capire quali sono le zone rosse, dove sono le debolezze del proprio territorio per capire appunto dove si è e cosa si deve fare in certi casi. Cosa fare ad esempio prima dell'alluvione? Certo, innanzitutto informarsi, per cui usare tutti i canali possibili. Oggi non abbiamo fatica, possiamo guardare su internet, sui social, possiamo guardare la televisione, la radio, per cui avere l'informazione, ascoltare, iscriversi per esempio presso i propri comuni se ci sono delle liste di avviso via sms o via telefonata per sapere quando viene diramata l'allerta. Soprattutto questo per programmare una gita, per uscire di casa, insomma anche nella semplicità, perché uno può scendere a fare la spesa, poi se si trova in mezzo a un problema, insomma anche per voi diventa difficile, come ingombro anche. Certo, è un problema perché chiaramente nel momento in cui c'è da mettere in sicurezza una situazione ci sono persone, mezzi, tempo da dedicare a quella situazione, per cui è sempre meglio non mettersi a rischio. Per cui una volta che una persona è informata, se sa che quel giorno ci sarà un'allerta di livello arancione o rosso, sarà meglio che rimandi qualunque gita, che pensi a sistemare prima che venga l'allerta le cose, togliere le macchine, le biciclette, tutto quello che può essere considerato importante, toglierlo prima che ci sia un rischio di allagamento, per esempio, del proprio fondo. E poi certo, è meglio non mettersi per strada nel momento in cui viene data un'allerta per permettere anche eventuali mezzi di soccorso, di sicurezza, di poter passare a intervenire.